impariamo le verdure pomodoro carota peperone melanzana fungo patata broccoli cetriolo impariamo i mezzi di trasporto aeroplano furgone bicicletta ambulanza automobile razzo barca camion dei pompieri taxi taxi impariamo la frutta mela pera uva uva mango banana mora arancia ciliegie ciliegie impariamo gli animali elefante panda uva 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 gu signature che la uva uva l United il mucca cani Impariamo i colori rosso blu giallo verde arancione viola rosa nero bianco grigio Impariamo i numeri uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Impariamo le forme quadrato rettangolo rettangolo cerchio ellisse triangolo pentagono esagono ottagono rombo stella a e ciao bambini guardate sta arrivando il treno dell'alfabeto a b c c d e e f g h h i j j k k l m m n o p q r s s t u v w w w x y e e e z z ciao sono bobby il treno viaggio sui binari e i passeggeri possono sedersi su di me e andare verso luoghi lontani posso anche portare merci da un posto a un altro andiamo a trovare gli altri mezzi di trasporto guardate la c'è un'automobile hey bob sto andando a fare un picnic ci vediamo presto bob guardate bambini c'è una macchina della polizia cosa stai facendo macchina della polizia i poliziotti siedono dentro di me per catturare i lavori è un lavoro coraggioso combattere contro l'ingiustizia dov'è che vai così di fretta camion dei pompieri delle persone sono intrappolate in un incendio sto andando a salvarli con l'aiuto dei pompieri guardate arriva un'ambulanza io vado a portare malati e feriti all'ospedale e tu cosa fai camion della spazzatura? io raccolgo e rifiuto e tu cosa fai camion della spazzatura? io raccolgo e rifiuto guardate ci sono muletto e bulldozer ehi ragazzi cosa state facendo? ciao bob sto aiutando muletto rimuovendo gli ostacoli ciao bob io aiuto caricando e scaricando allora buon lavoro ragazzi guardate là c'è l'elicottero che vola via ciao bob ciao carruattrezzi ciao carruattrezzi e tu cosa fai? io traino le macchine guaste spero vi siate diventiti bambini imparando i vari mezzi di trasporto ehi bambini guardate c'è giacomino ha una bella crostata c'è giacomin che su un tavolino si mangia una crostata il suo dito allunga trova una prugna e dice ma che bella giornata c'è giacomin che su un tavolino si mangia una crostata il suo dito allunga trova una prugna e dice ma che bella giornata c'è giovannin che beve in giardino lui ama le limonate vede un insetto e dallo spavento scappa via gambe levate c'è giovannin che beve in giardino lui ama le limonate vede un insetto e dallo spavento scappa via gambe levate ecco daniele siede in cortile legge i suoi fumetti arriva un amico e a lui fa contento siedi e guarda con me ecco daniele siede in cortile legge i suoi fumetti arriva un amico e a lui fa contento siedi e guarda con me sono in dieci nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo 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 rotolando rotolando poi uno cade giù nove nove sono in nove nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù otto otto sono in otto nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù sette sette sono i sette nel letto il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù sei sei sono i sei nel letto il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù cinque Cinque Sono in cinque nel letto e il più piccolo ha detto Rotoliamo, rotoliamo Rotolando, rotolando poi uno cade giù Quattro, quattro Sono in quattro nel letto e il più piccolo ha detto Rotoliamo, rotoliamo Rotolando, rotolando poi uno cade giù Tre, tre Sono in tre nel letto e il più piccolo ha detto Rotoliamo, rotoliamo Rotolando, rotolando poi uno cade giù Due, due Sono in due nel letto e il più piccolo ha detto Rotoliamo, rotoliamo Rotolando, rotolando poi uno cade giù Uno, uno Ce n'è uno nel letto e il più piccolo ha detto Buonanotte